Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Krix e oggi ragazzi sono qui tornato su GTA 5 Online E siamo qui oggi ragazzi perchè volevo parlarvi di alcune novità riguardanti i Rockstar Games E vi parlerò di questo nuovo DLC che sta per arrivare come avete letto sicuramente da titolo E inoltre vi mostrerò altre informazioni segrete per quanto riguarda i prossimi veicoli che dovrebbero uscire in futuro su GTA Online Come anche il creatore di contenuti per i veicoli speciali securo serve Quindi diciamo che questo video cercherò di darvi quante più informazioni possibili prima che appunto questo DLC venga rilasciato Ragazzi prima di iniziare vi chiedo soltanto di lasciare un like perchè per me è davvero molto importante Ragazzi cerchiamo di arrivare a meno 30 like per questo video E niente direi che possiamo anche iniziare subito con questo video Allora andando sul sito della Rockstar come ultima notizia possiamo leggere questo avviso con scritto Stand da capogiro veicoli speciali in arrivo il 14 marzo Quindi come avevo detto in qualche video precedente appunto questo DLC che sarebbe dovuto arrivare questo mese in futuro appunto su GTA Online Si chiama appunto Stand da capogiro veicoli speciali Sicuramente in sottofondo starete vedendo il gameplay di questo creatore di queste gare stunt per i veicoli speciali E come abbiamo parlato precedentemente in qualche video Con queste diciamo nuove gare stunt per i veicoli speciali Sarà possibile anche crearli appunto nel creatore di contenuti Insomma quindi diciamo che molti utenti di GTA Online appunto i creatori più diciamo bravi Potranno creare anche loro delle super gare stunt appunto con questi veicoli Come possiamo vedere da questa immagine c'è praticamente questo tubo nuovo del tutto nuovo con dei turbo all'interno E come possiamo vedere ci sono anche delle Ruiner 2000 Quindi molto probabilmente avremo la possibilità di avere nuovi accessori stunt Da poter inserire appunto nel nostro creatore di contenuti per questi veicoli speciali E come già sappiamo verranno aggiunte 29 gare stunt appunto da parte di Rockstar Per quanto riguarda questi novissimi veicoli speciali Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi ragazzi È che questo aggiornamento quindi questo creatore delle gare stunt per veicoli speciali È già presente nel gioco E possiamo ben trovarlo come anche provarlo nella versione su PC Quindi per chi ha acquistato GTA 5 per PC c'è un modo per accedere a questo creatore In anticipo appunto del creatore di contenuti sulla versione PC Ma dovete sapere anche che dovete fare molta attenzione Perché se tenterete di fare accesso a questo creatore Per provare comunque sia questi nuovi veicoli speciali Che verranno appunto aggiunti nelle gare stunt da domani Dovete stare appunto molto attenti perché potrete rischiare il ban E non so che tipo di ban Se permanente o temporaneo per il momento non lo so Sappiamo soltanto che chi tenterà di fare accesso al creatore in anticipo Prima della data dell'uscita appunto ufficiale Verrà bannato il giorno stesso Comunque sia i giorni prossimi dopo l'uscita dell'aggiornamento Quindi dovete fare molta molta attenzione Diciamo che il gameplay che state vedendo in sottofondo È diciamo stato abbastanza con i contro coglioni Perché Foxy Snaps questo modder qui Di cui vi parlerò anche in futuro su questo video Avrà comunque sia i suoi modi per accedere a questo creatore E non farsi bannare Quindi come state vedendo in sottofondo Ci sta mostrando appunto Il creatore di contenuti con Tutti i nuovi veicoli Securo Serve speciali Che potremo utilizzare in futuro su GTA Online Una cosa molto importante ragazzi È che in queste gare stunt con i veicoli speciali Potremo utilizzare addirittura Le armi presenti all'interno dei nostri veicoli speciali Quindi nelle gare con la Ruiner 2000 Potremo usare mitagliatrici e razzi Ovviamente ragazzi i razzi saranno a mira manuale Quindi comunque è una cosa piuttosto normale Perché altrimenti queste gare sarebbero ingiocabili Come anche appunto potremo utilizzare La mitagliatrice del nostro Blazer Acqua Nelle gare per Blazer Acqua O comunque sia poter utilizzare il razzo Dietro la nostra Rocket Voltic Appunto nelle gare con Rocket Voltic Appunto che bisogna utilizzare la Rocket Voltic Quindi molto probabilmente Queste gare saranno piene di adrenalina Comunque sia saranno frenetiche Ci saranno comunque sia varie esplosioni Comunque nelle gare con la Ruiner 2000 Quindi ovviamente la Rockstar appunto ci ha Diciamo ufficialmente annunciato che O meglio non ufficialmente Comunque è una cosa che è venuta fuori Da qualche tempo Quindi molto probabilmente Avremo la possibilità di utilizzare queste armi Presenti all'interno dei nostri veicoli speciali Appunto in queste gare stunt Che verranno rilasciate da Rockstar Games Un'altra cosa molto importante Che la Rockstar anche questa non ha ufficializzato È che oltre a poter avere queste nuove gare stunt Con questi primi tre veicoli speciali Nel creatore e come state vedendo O come vedete in futuro nella clip Si potranno creare e quindi utilizzare Anche gli altri veicoli securo serve Quindi avremo la possibilità ragazzi Di creare comunque sia attività Come ditmatch, care, catture O la Steam Sandic appunto Utilizzando anche questi veicoli speciali E una cosa che non vi ho detto È che appunto si potranno creare gare stunt Anche con altri veicoli speciali securo serve Quindi avremo comunque sia la possibilità Di creare gare con il Carin Technical Gare con il Wastelander Gare con il Phantom Wedge E così via Un'altra cosa ragazzi È che in questo creatore di GTA Online Appunto specializzato in un certo senso Soltanto per questi veicoli speciali Sarà possibile utilizzarlo anche appunto Per creare altre attività Come appunto LTS, deathmatch, catture Eccetera eccetera Quindi un qualcosa di veramente fenomenale Come possiamo vedere da questo avviso Meglio da questo diciamo post Possiamo leggere Sfreccia nei tunnel e paracaduta Di verso il traguardo con la Ruiner 2000 In dannazione Una delle nuove venti gare stunt Con veicoli speciali in arrivo settimana prossima Quindi possiamo ben capire Che con questi nuovi veicoli O meglio con queste nuove gare stunt Con questi veicoli Potremo diciamo in un certo senso Paracadutarci verso il traguardo Quindi avremo la possibilità insomma Di creare nuove gare stunt Con questi veicoli E per quanto riguarda diciamo Le gare con la Ruiner 2000 Molto sicuramente avremo Nuovi accessori stunt Come possiamo vedere da questa immagine E sicuramente il traguardo Dovremo comunque sia paracadutarci Verso il traguardo Per appunto riuscire a concludere la gara Per quanto riguarda Le gare stunt Con i veicoli speciali In questo caso con la Ruiner 2000 Inoltre queste nuove venti gare stunt Verranno diciamo in un certo senso Suddivise in appunto per categoria Quindi avremo la categoria Delle gare stunt Verificate da Rockstar Con la Ruiner 2000 Avremo poi la categoria Per quanto riguarda le gare stunt Con il Bracer Acqua E con appunto la Rocket Voltic E quindi molto probabilmente Le gare, queste gare stunt Con questi veicoli speciali Saranno diciamo una novità Per quanto riguarda comunque Il mondo di GT Online Per quanto riguarda anche comunque Il mondo delle gare E quindi diciamo che Secondo me ci sarà molto più Intrattenimento per quanto riguarda Queste gare stunt Con i nuovi veicoli speciali Che comunque sia Con tutte le altre gare presenti Sia create che non Appunto su GT Online Inoltre come leggiamo da questo avviso C'è scritto la settimana prossima GT Online si arricchirà Con una serie di gare adrenaliniche Grazie alle venti nuove gare stunt Per Rocket Voltic Ruiner 2000 E Blazer Acqua Di stunt da capogiro Veicoli speciali Realizzate per sfruttare Le particolari caratteristiche Di questi veicoli Queste gare stunt Saranno disponibili in GT Online Da martedì 14 marzo Lo stesso giorno Leggendario Motorsport Aggiungerà alla sua Eccezionale gamma di supercar La Progen GP1 Dalle linee classiche Ecco qui la foto Che della Progen GP1 Che verrà aggiunta Con questo nuovo aggiornamento Il giorno Martedì 14 marzo Quindi se stai guardando Questo video Lunedì 13 marzo Domani appunto Oltre a questo nuovo DLC Di queste nuove gare stunt Che verranno introdotte Su GT Online Avremo allo stesso giorno Anche la nuova Progen GP1 Disponibile sul sito Di Leggendario Motorsport E come avevo anche detto In un video precedente Il suo prezzo Molto probabilmente Sarà di circa 3 milioni di dollari Quindi dovremo spendere Comunque sia Altri soldi Per quanto riguarda Questo nuovo gioiellino Direttamente proveniente Da Leggendario Motorsport Appunto Inoltre Ovviamente Appena uscirà il DLC Ci saranno soldi Ed RP doppi Sulle nuove modalità Competizione Di cui vi ho anche parlato Precedentemente Come anche le nuove gare Stunt Che la Rockstar Comunque sia Rilascerà Con l'arrivo Di questo nuovo aggiornamento Quindi Tutte le nuove 20 gare stunt Che verranno rilasciate Domani Dalla Rockstar Avranno soldi Ed RP doppi Per circa Due settimane Da quanto Stia Da quanto sto leggendo Quindi Molto probabilmente Dopo appunto L'uscita del DLC Facendo queste gare stunt Si avrà la possibilità Di guadagnare soldi Ed RP doppi Su queste gare appunto Ad ogni modo Vedremo Comunque sia Staremo a vedere Fatemi sapere ragazzi Nei commenti Anche se vorreste vedere Che io vi porti Qualche gameplay Su queste nuovissime gare stunt Parlando di altro ragazzi Quindi Direi che per questa Ultima notizia È tutto Volevo anche parlarvi Di altre informazioni Per quanto riguarda I prossimi DLC Per quanto riguarda Le ultime novità Questo è tutto Quindi domani Quindi col 14 mazzo Avremo la possibilità Di giocare Questo nuovo aggiornamento Stunt da capogiro Veicoli speciali E appunto Avremo la possibilità Di poter fare queste gare Con questi veicoli speciali E inoltre Come abbiamo ripetuto Precedentemente Rockstar stessa Il giorno stesso In cui praticamente Pubblicherò l'aggiornamento Uscirà anche la nuovissima Progen GP1 E sicuramente Questo veicolo Non sarà modificabile Da beni Ma sarà Diciamo In un certo senso Modificabile soltanto Ad un qualsiasi L'assento scasto Normale Della città Quindi Saremo insomma A vedere Cosa avrà in mente Rockstar Per quanto riguarda Questo primo aggiornamento Ovviamente ragazzi Tutte le news Ve le porterò Qui sul mio canale Quindi mi raccomando ragazzi Non mancate Perché oltre a queste Due nuove novità Che verrà rilasciate Da casa Rockstar Vedremo anche Quali altre novità Ci saranno Per quanto riguarda Questo nuovo aggiornamento Parlando di altro ragazzi Come abbiamo parlato Precedentemente Saranno in arrivo Su GTA Online Anche due Nuovissimi veicoli Richiesti Da appunto La community di GTA Che sarebbero appunto La Turismo Classic E l'Infernus Classic Questo Mother Foxy Snaps È riuscito a trovare Altri aggiornamenti Per quanto riguarda Appunto I prossimi veicoli Come anche aggiornamenti Che dovrebbero arrivare Su GTA Online Ed è riuscito In un certo senso A trovare altre foto Per quanto riguarda L'Infernus Classic Ed ecco vele qui Come state vedendo In questo momento Probabilmente Insomma impressione Questo Mother Foxy Snaps È riuscito Praticamente A trovare Il design Di questa Infernus Classic E infatti È riuscito E infatti è riuscito A trovare Praticamente Il design Della macchina Completo E come sarebbero Da queste foto Ragazzi Sicuramente I più veterani Del mondo Di Grand Theft Auto Avranno riconosciuto Il design Di questa fantastica E nuovissima Infernus Classic Che avremo in futuro Su GTA Online Ovvero ragazzi Stiamo parlando Della mitica Diablo Apparsa Non soltanto In GTA 3 Ma anche In altre GTA In quanto appunto Il design È molto simile E anche all'Infernus Del appunto Di GTA Vice City Stories Quindi diciamo Che comunque Queste sono Le ultime foto Per quanto riguarda La nuovissima Infernus Classic Dice il modder Che molto probabilmente Questo sarà L'aspetto ufficiale E completo Di questo nuovo Infernus Classic Appunto Che dovrebbe arrivare In futuro Su GTA Online Quindi Diciamo che queste Sono le ultime novità Per quanto riguarda Comunque Il mondo di GTA Online Ovviamente ragazzi Se ci saranno Altre novità Ve le porterò Sicuramente Nel canale Diciamo che L'aggiornamento Più importante È sicuramente Questo nuovo Dele Cica Sa per arrivare Quindi niente ragazzi Fatemi sapere la vostra Giù nei commenti Io ci tenevo a parlarvi Di queste ultime novità Questo video ragazzi Dovevo uscire Circa due giorni fa Ma per motivi tecnici E per mancazza di tempo Non ho più avuto Modo di poter Diciamo In un certo senso Registrare questo video Quindi niente ragazzi Per questo video è tutto Fatemi sapere Se avete apprezzato Fatemi sapere la vostra Giù nei commenti Ovviamente Commentando Ragazzi Vi invito semplicemente A lasciare un like Per supportarmi Io ragazzi Spero Abbiate apprezzato E nulla Direi comunque sia Che per questo video è tutto Ragazzi Vi invito a seguirmi Su tutti i social Come Telegram Instagram E Facebook Troverete comunque sia Tutti i link Nella descrizione E niente Questa è tutto ragazzi Io comunque sia Vi saluto Vi ringrazio E ovviamente Ci vediamo ragazzi Al prossimo video Bella Ciao